Intanto la quarta pelle, deputato, Parlamento europeo, la Camera, tante altre cose, ma soprattutto studiosa, ricercatrice di temi che hanno a che fare con il mondo femminile, ma che hanno a che fare alla fine con i diritti, con i diritti di cittadinanza in tante parti del mondo. Grazie Linda, grazie Francesco, grazie al Festival della Crescita per l'invito, è bello tornare dopo cinque anni, anche se poi non è stato un interruttore, abbiamo fatto tante altre cose in questi cinque anni insieme. C'è una cosa che mi ha colpito tanto, ci siamo sentite con Cristina in questi giorni per l'appello per le donne kurde che vedete qui, promosso dalle contemporanee, ed è una cosa che ha a che fare col progetto delle contemporanee. Io appunto, come diceva Linda, mi occupo di questioni internazionali, sono una ricercatrice dell'ISPI, dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, originariamente sono un africanista, poi in Parlamento, essendo in Commissione Esteri, mi occupo di tante crisi, in particolare il Mediterraneo e l'Africa, che sono il centro della politica estera italiana. Tendenzialmente queste sono discussioni che è molto difficile riportare tra le persone, sono discussioni molto tecniche, perché tendenzialmente la politica estera è forse l'argomento da cui le persone si sentono più estraniate, perché è lontano, e invece è lontano, è intangibile, si può fare molto poco sulla politica estera, ogni cittadino può fare molto poco e tendenzialmente le conseguenze della politica estera uno le subisce e preferirebbe evitarle. Quindi questo è il contesto. Vabbè, io sono eletta a Milano, Milano è una città particolare, il legame tra Milano e l'Europa, Milano e il mondo c'è, quindi è un ambiente leggermente più fecondo, ma tendenzialmente meno, diciamo, tendenzialmente non è come se ti occupi di pensioni, di tasse, di asilinido, che sono dei temi invece che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni delle persone. L'appello delle contemporanee, il modo di lavorare delle contemporanee, mi ha molto colpito in questi giorni. Credo che questo modo di lavorare a rete, molto libero, molto aperto, molto femminile, estremamente collaborativo, sia riuscito a fare una cosa che non eravamo riusciti a fare per tanto tempo, cioè legare la spinta emotiva che in tanti sentiamo, l'identificazione con una causa più grande. Tutti quanti noi siamo estremamente preoccupati di quello che sta succedendo tra Siria e Turchia e continuiamo a esserlo nonostante queste notizie di tregua che non si capisce bene, che conseguenze abbiano, se sia una fregatura come purtroppo io penso per i kurdi del Rojava o se sia qualcosa di più stabile, però le istituzioni sicuramente, ma anche la politica hanno fatto più fatica ad arrivare dentro le persone. Invece il modo di lavorare delle contemporanee, che è un modo molto reticolare, senza etichette, chi ha voglia fa una cosa e la si diffonde, ha permesso la realizzazione di questo appello. Questo appello per me è particolarmente incisivo, non so se lo leggete, l'ha scritto Flava Perina, ricorda Cristina Tagliabue, quindi una bravissima giornalista che spesso dà degli spunti controversi, intelligenti, taglienti e anche in questo caso lo è, ma è riuscita a convogliare emozioni verso un'iniziativa politica. Per me, a me ha fatto un regalo in più e lo dico in questo contesto che è un contesto appunto da divano, quindi un pochino più familiare, a me ha regalato anche un pensiero. Io non ho figli, in questo momento della mia vita ho un compagno che ha dei figli e la sua figlia più piccola è venuta a vivere con noi, è una ragazza adolescente. Tendenzialmente non sono figli miei, quindi diciamo l'educazione non è responsabilità mia, sono in giro per casa, ce ne prendiamo cura. È l'unica volta, dopo aver letto l'appello delle contemporanee, che io con la figlia del mio compagno ho avuto l'istinto di dirle però facciamo una cosa politica insieme, perché mi veniva di dirle guarda queste donne, guarda queste ragazze, impara da loro. È la prima volta che mischio diciamo l'educazione con la politica, penso che sia anche tendenzialmente sbagliato, nel senso che poi i figli, soprattutto se i figli degli altri decidono loro. Però è la prima volta e credo che questo scatto, cioè questa capacità di mettere insieme politica e vita reale, vita di ciascuna di noi e di spingere ciascuna di noi all'azione, venga da questo modo di lavorare che Cristina ha spiegato bene. Ci vorrebbe molta più politica, molta più attivismo politico così, un attivismo politico con degli obiettivi chiari, la mobilitazione avrà una giornata, che adesso sta diventando una giornata europea probabilmente, per cui si convogliano le emozioni in una direzione, ma si rendono le iniziative politiche personali. E questo è molto bello e io credo abbia a che fare tanto con l'incrocio tra femminile e politica. Aggiungo un'altra cosa, si parla spesso delle donne in politica, che cosa cambia, se hanno una marcia in più. Io penso che quando le donne entrano seriamente in politica, come è successo in Germania, cambiano lo scenario. In Germania voi avete Angela Merkel, avete AKK, Annette Crown-Karrenbauer che è la successora di Angela Merkel, avete Ursula von der Leyen, avete i Verdi che hanno delle figure di donne dalla Baviera al Partito Verde che ha delle figure di donne sempre più iconiche, avete addirittura nell'Espede, cioè i socialdemocratici, anche lì delle donne, quindi piano piano, una può essere un caso la Merkel, due, vabbè, si sono date una mano, questa ondata di donne vuol dire che le donne quando si mettono a fare seriamente politica cambiano il panorama della politica e quindi di una nazione. Ma non è solo questo la cosa che mi colpisce dell'iniziativa delle contemporanee e in generale delle iniziative delle donne in politica. Quello che mi colpisce è la capacità di collaborare, anche qui, su questa mobilitazione non è che c'è lo stemmino delle contemporanee e quindi non si vuole mettere nessun altro. Mi colpisce perché venivo qua con Cristina e ci sono altre persone in altre parti d'Italia ed Europa che hanno voglia di collaborare e c'è la voglia di farlo accadere, punto. Non importa chi lo fa, non importa chi si mette la medaglietta, l'importante è che ci sia. E secondo me queste sono dei bei lasciti, l'attivismo, l'avvicinare la politica con la persona, il fatto di far accadere le cose prima di dire chi lo fa, ma l'ho fatto, ma come mi metto in mostra, sono dei bei segnali di come una presenza femminile con uno sguardo femminile, che non è esclusivamente delle donne ma che è parte in particolare dalle donne in questo caso, possa cambiare il modo in cui stiamo dentro la società. Mi sembra un buon modo di iniziare e un buon modo poi di contribuire alla Crescia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.